Cari amici di Exclusive, buonasera. Ci incontriamo per le opere scelte da Lucia. Stasera, senza tante difficoltà, voglio subito presentarvi l'opera di cui andiamo a parlare. È un'opera conosciutissima, è l'opera forse più famosa d'arte al mondo e sto parlando della Gioconda o della Mona Lisa, così come la vogliate chiamare. Per noi è la Gioconda. Stiamo parlando di un'opera che Leonardo da Vinci realizza nel 1503. È l'opera più leggendaria. Dietro alla Gioconda si sono raccontate un sacco di storie. Gli italiani amano dire che la Gioconda è stata rubata, si trova in Francia perché è stata rubata da Napoleone, che la Gioconda forse non rappresentava una giovane donna ma che era l'autoritratto effemminato di Leonardo che così mostrava la sua omosessualità. Addirittura qualcuno che toccava il grembo. Insomma, un sacco di storie leggendarie. Ma vediamo alla verità perché cosa dobbiamo raccontare di questo quadro straordinario? Che peraltro non è molto grande, che si trova a Louvre, 77 cm x 60 cm, un quadro veramente di qualità incredibile in cui il disegno di Leonardo emerge e la sua capacità nel ritratto. Stiamo parlando di un ritratto pagato da Francesco del Giocondo in occasione della nascita del figlio avuto da Mona Lisa, la signora Mona, e lei è ritratta in questo quadro. Cosa fa Leonardo di grande novità nel quadro? Ovviamente si ispira a dipinti di provenienza fiamminga, l'idea della costruzione di un quadro con uno sfondo disfumato e l'idea di una rappresentazione del volto in cui il gioco del chiaroscuro, la velatura sopra la testa. Non ho bisogno di mostrarvi questa immagine che è ben chiara nella mente di ciascuno di noi. Un quadro che ha segnato un nuovo momento, Raffaello si trova a Firenze, si ispirerà alla novità dell'introduzione, per esempio, delle mani, forse verrocchiesca, ma questa idea di sfumature, questa idea di un'indagine nei confronti di questo dipinto è davvero incredibile perché questo quadro non aveva avuto una grande fortuna fino a quando venne rubato da un imbianchino che era poi impiegato a Louvre, tale Perugia, portato a Firenze per essere venduto ad un commerciante d'arte, tenuto in un hotel che oggi appunto si chiama Frame, una volta si chiamava La Gioconda. E questo quadro è un quadro che è stato venduto da Leonardo per 4.000 scudi d'oro a Francesco, re di Francia, quando Leonardo si trasferisce ad Ambois e cambia la sua vita, la sua residenza, con una residenza francese. Quindi un quadro che vive di una grande leggenda, di tante storie che poi non sono vere, ma è un quadro che rivela invece nella sua qualità artistica tutte le doti di Leonardo, che certamente era un abile disegnatore, che si era misurato con Michelangelo forse appunto nelle schermaglie per le battaglie all'interno del palazzo e che poi appunto a ritorno dai suoi viaggi milanesi aveva ricevuto quest'incarico da Francesco del Giocondo, motivo per cui per gli italiani è La Gioconda, per Il Mondo è La Mona Lisa, il quadro forse più famoso al mondo, il ritratto più enigmatico che possiamo mai vedere. Con questa opera che ovviamente è la mia opera del cuore, ma è l'opera del cuore del mondo, vi saluto e ci ricordiamo insieme che per un periodo quando poi fu ritrovata, fu esposta alla tribuna, in tribuna in Galleria degli Uffizi a Firenze e quindi poi una grande fama, una grande eco internazionale. Buonasera a tutti, ci vediamo domani con le opere scelte da Lucia. Buonasera a tutti.